Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Pina. Ciao! Pina Guida che ci aiuta spesso in questi tutorial. E la canzone da imparare sarà quella di... Francesco Gabbani, Spazio Tempo. Dopo la sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Sol maggiore, quindi Sol, Si, Re Poi Do maggiore, andiamo in avanti Do, Mi, Sol Accanto troviamo il Re minore Re, Fa, La Ed infine il Fa maggiore Fa, La, Do Vi ricordo che gli accordi si possono prendere più giù o più sopra, indifferente in base a quello che è il nostro gusto più chiaro o più scuro di suonare io probabilmente scenderò in questa fase e questa canzone ha un intro quindi parte con il Sol che fa così e comincia con il Do maggiore Nella confusione miliardi di persone sono un'occasione o aggiungo Re minore tra l'azzurro e il buco dello zono tra Gionlenopo e Yoko Ono ancora Do il passato non dimentica il futuro fa ginnastica si prepara tutti i giorni per te Re minore canta un po' Alba Chiara un po' My Way schiaccio il tasto Re che il tasto Play e poi così tu sei qui Natale in un qualsiasi lunedì e qua Pina ha già iniziato a cantare vi faccio vedere gli altri due accordi che troviamo che sono La minore quindi La Do Mi e poi Mi minore andiamo indietro Mi Sol Si quindi parte con il Fa e poi così tu sei qui Natale in un qualsiasi lunedì Udili che toglie le catene al mondo e in fondo un inganno l'unere è solo una follia un salto nel vento un'ora nello spazio un punto nel tempo è un giorno che va via un appuntamento un battito perpetuo che dura un momento Nei millenni tutti gli anni aspettando primavera un platone e un botticelli d'amblè la maiotica del fai da te vuoi morire e vivere con me e poi così il tuo ritorno e Cristo in un qualsiasi mezzogiorno mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme un inganno non c'è il tarnello è solo una follia un salto nel vento un'ora nello spazio un punto nel tempo è un giorno che va via un appuntamento un battito perpetuo che dura un momento ma il momento ok fermiamoci un attimo qua ci saranno due nuovi accordi nel finale che sono sol minore quello che era sol maggiore sarà sol minore perché c'è il si bemolle sol si bemolle re e poi troveremo anche il fa oltre che il fa maggiore il fa minore fa la bemolle do vediamo questa parte ma il momento per fermare il tempo non è mai e capirò se capirai che per sempre la canzone finisce con il do maggiore bene come abbiamo visto anche questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte io ringrazio Pina grazie a te per averci dato una mano come sempre e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni volta esce un video nuovo potete subito guardarlo inoltre se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è un video tutorial che ho realizzato dove spiego come poter fare quindi vi lascerò il link in descrizione ok ciao ragazzi alla prossima